Un anno senza Lorenzo Ricci, il giovane di Cervetri che il 14 luglio del 2018 ha perso la vita in un tragico incidente, è stato ricordato come meglio non si poteva. In un torneo di calcio a 8 a Cervetri, Ladispoli, le squadre di calcio dove ha militato. Una serata bellissima la finale davanti a più di 600 persone, un pubblico da brividi, il ricordo del papà Medeo e mamma Elsie. Sì, è stata una bella serata che ci ha fatto vedere l'amore di tutti questi ragazzi fronti di Leonardo e quindi ci rende fieri di tutto quanto. Ci consola la vicinanza di tutto il paese, di tutti i ragazzi, delle famiglie perché non ci sono solo ragazzi, ci sono anche i famigli, ci sono i nonni, ci sono i bambini piccoli, sono venuti a una festa. Quello che sicuramente desiderava lui proprio, lui piaceva stare in mezzo alle persone, festeggiare e questo penso che sia la cosa più bella per noi. Ci sono gli amici e il fratello Ludovico? Sì, è stato un torneo organizzato e voluto dagli amici dove siamo stati aiutati anche molto dalle attività locali che hanno contribuito con degli sponsor abbastanza importanti. dove i campi ci hanno ospitato, tra cui l'Angelo Sali di Radispoli e l'Enrico Carlo di Cervetri. Tutta la città ci è stata vicina, c'è stato un grosso numero di persone che è sempre venuto a vedere le partite. È stato un torneo bellissimo, è una prima edizione, molto bello e speriamo di ripeterlo durante l'estate. Tutto la vita, tutto quello che abbiamo passato insieme da quando eravamo piccoli, da quando si facevamo la doccia insieme ai nudi all'ultimo saluto, all'ultimo abbraccio, all'ultimo momento. Fa male, fa male perché un anno, come un giorno, come un mese, come una settimana, due anni, non passerà mai, è un dolore troppo forte. L'affetto da parte di tuo fratello si vede nella gente che c'era questa sera e la gente che c'era durante il torneo, una grandissima partecipazione, un testato di stima, di affetto. Eh sì, lui era un ragazzo molto solare, poi lo conosco meglio di tutti e niente, era un ragazzo perfetto in tutto, in ogni cosa. Pensavo ogni cosa prima e le conseguenze. Cercavo sempre di aiutare gli amici, soprattutto poi a me e sarà sempre il mio idolo, l'unico. Insomma, l'indimenticabile Coccio rimane nel cuore di tutti. Grazie a tutti.